A seguire come la partenza di questa battaglia junior con il rider del Zastro, PNX, Tomaso Pruzzari in partito provato. In seguire come due riders della Cimlissi Colgatese, quindi la bella numero 8 per Pruzzari in due posizioni, in seconda abbiamo l'8.06, in terza l'8.07, quindi l'8.07 in piedi e l'8.07 in piedi. Bravi, vai, vai, bravi, dai!